Sabato 21 settembre è iniziata la seconda edizione della Golfo dei Poetic Cup, una serie di eventi per mare e per terra, a cuore sono sempre le regate veliche, quindi navigazione, mare e si concluderanno il 29 settembre. Ma quali sono i prossimi eventi? Sì, eventi sportivi, eventi a terra, conferenze e i prossimi eventi saranno una conferenza presso Calata Paita domani alle ore 18, tenuta da Asso Nautica La Spezia, il titolo Scopri dove ti porto, parliamo di turismo nautico, parliamo di scoperta degli itinerari del territorio spezzino. Una sorpresa finale, ci sarà una sorpresa appunto degustativa, quindi speriamo che le persone accorrono numerosi sia per l'interesse della manifestazione, della conferenza che anche per la sorpresa finale. Se il tempo invece volgerà al brutto, speriamo di no, cosa succederà? Abbiamo previsto un piano B, quindi ci sposteremo al termine del crociere, quindi vicino. E invece venerdì come proseguiranno gli eventi? Gli eventi, venerdì avremo un altro evento molto importante, avremo un concerto tenuto dalla fanfara del Comando Interregionale Malittimo Nord, diretta magistralmente dal primo logotenente Vito Ventre, avremo non un concerto classico consueto, ma avremo la riproduzione, l'esecuzione di brani, musical di Broadway, avremo delle colonne sonore del maestro Morricone e non per ultimo doveroso maggio al maestro Puccini a cent'anni dalla morte. Avremo l'arricchimento di questo, ulteriore arricchimento di questo concerto saranno anche la presenza di un soprano e un tenore. Allora, il soprano Claudia Belluomini e il tenore Tiziano Barontini, che ringraziamo fin da ora per averci prestato le loro performance per questo concerto. E chi vorrà partecipare a questo concerto come può fare? Chi vorrà partecipare a questo concerto ha anche super notazione, ma principalmente bisogna dire che è aperto a tutti, nessun numero chiuso e principalmente è un concerto gratuito. Abbiamo parlato di tantissimi eventi, ma eventi per mare, cosa ci sarà? Qualcosa? Concluderemo la settimana appunto il 29, venerdì dalle ore 17 avremo la solo per due, il primo trofeo Marina Nord il sabato pomeriggio e poi l'ultima regata la Golfo dei Poetic Up la domenica.